Eh sì, hai l'età giusta, mi dice alla fine quando è ormai accorto di argomenti una giovane in uno scambio di vedute, diciamo, sul sì e il no al referendum su Facebook. Eh sì, capite? Sono vecchietto, quindi per carità ho l'età giusta per permettermi di votare sì al referendum sulla riforma costituzionale. E poi per ribadire la sua impostazione per il no, che cosa mi presenta? Mi presenta un documento dove c'è la grande menzogna, la madre di tutte le menzogne che stanno circolando a proposito del referendum, ovvero che per il Senato nessuno potrà più votare per i propri rappresentanti. Menzogna, la madre delle menzogne, sarò vecchietto ma in Italia ce ne sono tanti di vecchietti e allora saremo in tanti a votare sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.